Lo scorso anno scolastico, secondo i risultati del monitoraggio realizzato dalla Facoltà di Psicologia dell'Università di Bologna, su un campione di circa 2.500 studenti, il 60% dei ragazzi hanno consumato la frutta dei distributori. Inoltre il 54% degli studenti ha dichiarato di aver aumentato anche a casa il consumo di ortofrutta, raggiungendo così la media di tre porzioni di frutta al giorno. Come sappiamo, il consumo di frutta e verdura serve a prevenire sovrappeso e obesità, anticamera di problemi più gravi di salute. Alla luce di queste considerazioni è auspicabile che nel nostro istituto, come negli anni scorsi, si continui a proporre attività educative che offrano agli studenti la possibilità concreta di scegliere snack nutrizionalmente corretti a base di frutta e verdura. Pensa che sia importante consumare frutta? Certamente, penso che il consumo di frutta sia molto importante anche per l'apporto di vitamine che ci forniscono. Sì, perché la frutta contiene dei nutrienti essenziali per una giusta alimentazione, quindi bisogna farne un uso quotidiano. Secondo me sì, aiuta molto sia per le difese immunitarie, ma è molto importante perché è importante. Sì, secondo me è molto importante consumare frutta anche perché siamo ragazzi, appunto l'alimentazione si deve controllare dalla nostra età. Sì, ritengo che sia un alimento importante anche per l'alimentazione di tutti i ragazzi ed essendo una sportiva la mia risposta è sicuramente affermativa. Cosa pensa dell'uso dei distributori automatici di frutta nelle scuole? Penso che sia un'ottima iniziativa e che speriamo, ci auspichiamo che si continui con questo progetto. È un'ottima iniziativa e dovrebbe essere presa da diverse scuole, soprattutto da quelle di ordine primario. Secondo me è sbagliato perché non è al massimo garantita la qualità della frutta. Secondo me è meglio comprare quella al momento perché non sappiamo anche da dove viene, come viene trattata, quindi secondo me è una cosa errata. Sono molto interessanti anche se poco consumati perché i ragazzi si afforano di più alle macchinette del mangiare di uso comune. Potrebbe essere un inserimento di un alimento abbastanza importante perché aiuterebbe anche probabilmente tutti i ragazzi a farne un uso e un uso anche più abbondante che sicuramente non guasta nella loro alimentazione. Le piace la frutta in generale? Moltissimo. Sinceramente non molto. Sì, le ripeto che nella mia alimentazione personale e ovviamente anche ai nostri ragazzi che fanno attività sportiva noi consigliamo di usare tanta frutta, ovviamente io direi anche aggiungiamoci anche un po' di verdura. E da Michele Traverse è tutto, a voi la linea.